Il Consiglio Comunale riunito oggi nell'Aula di Via Verdi ha approvato all'unanimità il regolamento per l'istituzione del garante dei disabili, una figura di collegamento tra l'amministrazione di cittadini con disabilità proposta dall'assessore alle politiche sociali Luca Fella Trapanese e sostenuta dalla commissione consigliare preseduta da Massimo Cilenti. La persona in quanto disabile deve essere accolta nelle sue esigenze nel mondo del lavoro, nella costruzione di una strada, nell'immaginare di progettare azioni rivolte alla cultura e poi anche alle politiche sociali ovviamente. Quindi il garante dei disabili lavorerà a stretto contatto con questa amministrazione, con tutti gli assessori e sarà da garanzia affinché ogni giorno tutte le nostre azioni che proponiamo ci sarà sempre qualcuno che ci ricorda che c'è anche la persona disabile che ha bisogno di essere integrata ed accolta rispetto alle risposte che noi promuoviamo. Questa amministrazione, questa città deve essere inclusiva e deve dare l'opportunità che tutte le tematiche relative alla diversa capacità delle persone che vivono questa città debbano essere tutelate. Lo deve fare una persona terza senza ingerenze. La scelta competerà al sindaco attraverso un avviso pubblico che verrà reso noto attraverso le pagine dell'amministrazione comunale per verificare curricula e capacità verso questo tipo di delicato segmento di attività che l'amministrazione deve eseguire.